Se c'è un'azienda che si è distinta per la realizzazione di telecamere smart per la sicurezza questa è sicuramente Arlo che è distinta così tanto da diventare un'azienda autonoma partendo da brand di Netgear Siamo arrivati alla terza generazione Arlo Pro 3 almeno appunto per la famiglia Pro poi ci sono tutte le altre varianti che abbiamo in altre occasioni discusso quindi molta attesa per la terza versione di uno dei prodotti più apprezzati anche e soprattutto da noi Scopriamo Arlo Pro 3 nella nostra recensione completa Ce l'ho qui in mano la nuova Arlo Pro 3 poi andrò a farvela vedere un pochino più da vicino un pochino più nel dettaglio vi spiegherò tutte le novità questo prodotto mutua tutta una serie di funzionalità e di novità da Ultra, da Arlo Ultra che era il prodotto di fascia ultra alta se così lo vogliamo definire dell'azienda per quanto riguarda le security cam la fascia Pro che è quella diciamo per tutti comunque il Pro spiega anche il fatto che è un prodotto che non è certo economico bene, tante di quelle funzioni adesso le ritroviamo anche nell'apprezzatissima famiglia Pro che è quella poi che si vende di più che più conosciamo e che più apprezziamo quindi per iniziare a raccontarvi cosa c'è di nuovo che cosa è cambiato che cosa è mutuato dalla famiglia Ultra direi che ci avviciniamo al prodotto e ve lo descrivo eccola qua, questa è Arlo Pro 3 Arlo Pro 3 che cambia il design rispetto a Pro 2 si va diciamo ad omologare alla versione Ultra prende tante delle sue caratteristiche qua sotto c'è un tasto che se premuto avete visto spinge in fuori il corpo della camera che può essere estratto con un po' di fatica è questo perché la telecamera è resistente ad acqua e polvere per poi rimuovere la batteria che è la stessa di Ultra la vado a richiudere ok, ecco qua sul retro c'è un attacco a vite c'è poi l'attacco quello nuovo quello dell'Ultra appunto che permette di andare a orientarla come volete per posizionarla sul muro, sul soffitto io l'ho semplicemente poggiata ma ci sono un sacco di modi per bloccarla ovviamente più la mettete in alto più la mettete lontana da mani indiscrete, indesiderate e più sarà al sicuro sotto c'è questo che è il connettore proprietario per la ricarica appunto purtroppo è proprietario ma il vantaggio è che essendo sotto se l'avete attaccata al muro è più facile che non ci sia bisogno di staccarla ma voi mettete il cavolo lasciate magari appeso quelle circa 3 ore che servono per caricarla e poi la batteria dura dai 3 ai 6 mesi ovviamente la stiamo provando da un mesetto capire se durerà davvero i 6 mesi promessi è difficile ma le precedenti versioni lo facevano non vedo perché questa non dovrebbe farlo purtroppo in confezione c'è un cavo solo quindi dovrete fare un po' a ruota anche se comprate appunto il kit da 2 che è quello che stiamo provando noi frontalmente c'è ovviamente la fotocamera che adesso passa a 2k quindi passa un'immagine quad hd decisamente più alta del full hd di arlo 2 pro più bassa però allo stesso tempo del 4k di ultra ci sono tutti i vari sensori ci sono questi ai lati che sono gli illuminatori per la visione notturna che ovviamente non manca abbiamo poi qua sotto un rinnovato speaker e un microfono qua sopra il rinnovato speaker perché questo speaker molto potente che adesso integra la funzione di sirena direttamente all'interno della telecamera è molto interessante perché in questo modo anche se la base è lontana e quindi magari non ha senso far suonare la base se magari questa è posizionata all'esterno visto che è impermeabile c'è una sirena qua dentro l'audio adesso è a due vie in tempo reale ovvero parlate e ascoltate contemporaneamente non c'è più la modalità simil walkie talkie della versione precedente e qua su c'è vedete un doppio led un illuminatore che va in sostanza ad illuminare tutta la stanza una stanza grande di una decina di metri quadri no scusate non una decina di metri quadri anche qualcosina in più riesce comunque a illuminarla senza problemi il grosso vantaggio è che c'è più dettaglio ovviamente anche grazie al sensore 2k ma soprattutto il fatto che ci sono i colori quindi potete vedere meglio se c'era un'auto di che colore era se c'è una persona come era vestita funziona molto bene la potete accendere a mano oppure come vi farò vedere dall'app potete anche accenderla automaticamente quando vengono riconosciuti i soggetti quindi il 79% in più di pixel un campo grandangolare da 160 gradi che è il 23 più ampio di prima un audio due vie adesso contemporanea con cancellazione del rumore zoom and track vi farò vedere poi dall'app e dalle clip che starete vedendo quando riconoscere gli oggetti li va anche a tracciare nel movimento HDR e poi tutte le altre funzioni che vi farò vedere a brevissimo anzi ci allontaniamo da questa cam andiamo a prendere il nostro smartphone e guardiamo cosa può fare questa Arlo Pro 3 ecco qua questa è l'applicazione di Arlo tra l'altro si può accedere con l'impronta digitale che è estremamente comodo una volta aperta vedete avete subito tutte le telecamere configurate direttamente qui più le impostazioni specifiche per la base station perché ovviamente l'hub è fondamentale è incluso nel kit c'è la compatibilità con altri hub più vecchi se andate sul sito trovate tutti i dettagli da questo punto di vista e poi vi dice quali dispositivi sono collegati la telecamera salotto e la telecamera ingresso vedete che qui riuscite in tempo reale a vedere l'ultima attività che è stata rilevata se premete sul play come ho fatto io qua sotto potete andare a vedere anche direttamente direttamente la telecamera in tempo reale vedete per esempio una delle novità sì c'è la visione notturna ma se io premo questa fra un istante si accenderà ovviamente c'è un minimo di delay la torcia e riusciamo a vedere tranquillamente in tempo reale anche con la luce e posso anche andare a regolare l'intensità se voglio più o meno luminoso ma poi ci sono altre impostazioni al riguardo aspetto che vengano applicate le impostazioni e poi la disattivo del tutto qua sotto ci sono altri indicatori il fatto che la batteria è all'incirca a metà l'abbiamo usata da circa un mese ma non era carica quando abbiamo iniziato la wifi abbiamo poi una chiave usb connessa all'interno del lab che permette di salvare in locale ciò che vediamo e poi la riproduzione del rilevamento dei suoni e il rilevamento del movimento che in questo momento è disattivato come si può configurare l'attivazione e le notifiche in questo caso ci sono tre possibilità attiva che quindi va ad attivare eventualmente qualsiasi movimento e quindi quello che adesso io posso fare per esempio è muovere questa mano davanti a noi dove è posizionata una telecamera ed è molto possibile che adesso ci arrivi una notifica anzi è meno possibile perché abbiamo messo la modalità non disturbare eccola qua è arrivata la notifica e quindi abbiamo persona rilevata sul salotto facciamo subito una prova intanto posso far scattare l'allarme se volessi se premo qua sopra vado direttamente sul tempo reale della telecamera e quindi apparirò io che sto registrando questo video ecco qua se io saluto vado a disattivare l'audio in modo in modo che non ci sia il ritorno avete visto quant'è il ritardo fra il mio saluto e il movimento ci saranno meno di 5 secondi quindi attivato disattivato e programmazione nell'attivato potete scegliere che cosa deve succedere se viene rilevato un movimento sul salotto o uno sull'ingresso e per esempio potete rilevare solo il movimento potete attivare anche l'audio potete far sì che non succeda nulla che venga registrato un video se viene registrato un video potete scegliere che sia diciamo dinamico automatico oppure per un periodo di tempo prestabilito che decidete voi potete scegliere se far attivare l'allarme e potete scegliere di ricevere una notifica e o un'email ok sono sempre io adesso poi lo disattiverò se noi impazziamo mettiamolo su disattivata programmazione che vi permette di andare vedete per esempio qui dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 quindi funziona abbastanza standard potete andare avanti appunto scegliere tutte le opzioni che vi ho fatto vedere prima oppure geofencing che è la modalità che ho scelto io dove voi in sostanza andate a decidere qual è l'area della vostra casa e attivare o disattivare automaticamente la telecamera in base alla vostra presenza o meno all'interno della casa e devo dire che funziona bene non perfetto un paio di volte ha cominciato a mandarmi le notifiche una volta che ero arrivato a casa ma comunque funziona in dispositivi possiamo andare per esempio a prendere appunto questa che è la telecamera del salotto c'è la cronologia e ci sono tutte le impostazioni intanto i tre mesi di prova di Arlo Smart di cui poi vi racconto a brevissimo il led della videocamera che vi dice se il led deve essere deve essere acceso in caso sia in carica le informazioni sul dispositivo e poi la cosa più interessante di tutte sono le impostazioni video dove potete scegliere intanto la luminosità della scena eccola qua se l'HDR deve essere automatico se deve fare streaming in 2K questo vale solo se siete sulla stessa rete locale se deve fare zoom automaticamente sugli oggetti che si muovono e quando poi vi parlerò di tutti i vari servizi vi farò vedere anche qualche clip ruotare a 180 se l'avete attaccato a testa in giù e questo l'impostazione di scarsa luminosità se volete che vada in visione notturna oppure se volete che si accenda il faretto e in questo caso se il faretto deve essere sempre acceso deve fare un singolo flash o deve essere pulsante la luminosità del faretto e questo è quanto quindi tante impostazioni da questo punto di vista e poi potete scegliere se volete una qualità migliore del video una versione ottimizzata oppure ottimizzato quindi una via di mezzo oppure ottimizzato per la durata della batteria quindi questo è un po' il range fra i 3 e i 6 mesi la modalità del video invece è se lo volete ampio a 160 gradi standard a 125 oppure massima che onestamente non so bene perché si chiami massimo ma sostanzialmente è la versione con il campo più stretto di tutto più stretto di tutti ci sono anche le impostazioni dell'audio microfono altoparlante volume dell'altoparlante e poi la libreria la libreria è dove voi potete rivedere tutte le varie tutte le varie clip che sono state registrate quindi se per esempio andate qui potete condividere potete scaricarlo potete eliminare se premete qui potete andare appunto a rivedervi le clip in streaming le clip in streaming però vedete che sta zoomando automaticamente su di me le clip in streaming valgono soltanto se avete attivato Arlo Smart vi parlo quindi di Arlo Smart e magari vi faccio vedere nel contempo anche qualche clip registrata Arlo Smart permette di avere sostanzialmente il riconoscimento dell'intelligenza artificiale e della visione computazionale che riconosce cosa c'è nella scena se c'è una persona se c'è un animale se ci sono i pacchi se sta suonando una sirena se ci sono dei veicoli i pacchi è una funzione che serve molto negli Stati Uniti dove spesso i corrieri lasciano semplicemente il pacco davanti alla porta questa è veramente interessante funziona molto bene a differenza delle altre telecamere qui mi dice veramente sempre se è il gatto che si sta muovendo a casa e questa è una gran comodità perché se siete di fretta e volete fidarvi e io mi sono sempre non fidato perché dovevo recensirla e dovevo sempre verificare ogni volta che era un animale a venire riconosciuto all'interno della scena era davvero la mia gatta che girava per casa oltre a questo vi abilita anche il salvataggio sul cloud che dalla versione Pro 3 non è incluso nel pacchetto base in nessuna forma quindi se non fate l'abbonamento di Arlo Smart il modo per salvare i video c'è perché è quello di inserire una chiavetta sul retro della base station e andare a salvare i file là dentro altre cose da sapere sono la possibilità di attivare zone attive quindi solo certe scene renderle attive al movimento il fatto che è compatibile con Alexa con Google e con Apple Watch Apple Watch nel senso che vi mostra proprio l'anteprima della notifica insomma devo dire un prodotto estremamente completo ancora una volta questa Arlo questa Arlo Pro è probabilmente il mio prodotto preferito il più completo da questo punto di vista è però indubbiamente anche uno dei più cari l'azienda si può permettere di fare dei prezzi abbastanza alti tre mesi attivi di Arlo Smart incluso la versione base con due cam che ho provato io costa 599 euro già disponibile su Amazon la versione con 3 costa 799 quella con 4 999 ogni telecamera aggiuntiva costa 299 euro per questa recensione di Arlo Pro 2 è tutto 3 scusate è tutto andate sul sito smartworld.it dove trovate maggiori dettagli sul prodotto per questa recensione è tutto un saluto da Emanuele Cisotti per smartworld.it Grazie a tutti Grazie a tutti